Questo è il ventesimo gioco che la Onus Gulliver dona alla città di Pesaro e con il progetto Altro Giro, che è un progetto che abbiamo condiviso con il Comune, il quale ci dà la possibilità di esprimere quello che la comunità Gulliver ogni giorno fa. Noi siamo un gruppo di sognatori, siamo nati tanti anni fa e abbiamo il desiderio di costruire e migliorare il nostro mondo. Il nostro presidente Andrea Boccanera dice sempre che non dobbiamo pensare al nostro orto ma guardare anche quello del vicino. Il discorso dei parchi è un discorso molto attento e sensibile perché comunque qui ci sono i bambini, i nonni e i ragazzi che vengono a fare footing e è un punto di incontro, un punto di ascolto e un punto di condivisione. È arrivato un regalo importante sotto Natale grazie alla Onus Gulliver e ci hanno donato un tavolino, due panchine e un'alta lena importanti perché vanno ad arricchire il parco giochi di Via Becci e l'arredo urbano del nostro quartiere. È un regalo sempre ben accetto perché qualsiasi cosa vada ad aumentare la possibilità che i giovani, che i ragazzi escano e vivano il quartiere sempre di più è sempre bellissimo. Questo progetto dà la possibilità di comunicare alla città che comunque facendo un'economia diversa, utilizzando e dando vita agli oggetti che magari andavano dimenticati o in soffitta, giornalmente condividendo con volontari, responsabili, ragazzi speciali, nonne, zii, di tutto di più riusciamo a fare un'economia diversa, un'economia sociale dove poi investire il tutto nella città dove giornalmente viviamo.